Buonasera mister, è una partita decisiva come le ultime, affrontata con uno spirito battagliero perché poi lei sostiene sempre che la squadra deve avere sangue ed è forse una delle prerogative principali che le chiede i ragazzi e con uno spirito insomma anche forse per fare un regalo al presidente che ha avuto questo piccolo malessere e per il quale credo vi auguriate di vincere anche per lui. Una partita importante come le altre, forse anche un po' più delle altre e cercheremo di fare fare una buona partita ma al di là del gioco, al di là della disposizione tattica, al di là di chi gioca che è importante chiaramente ma è secondario con uno spirito giusto. Cerchiamo sempre di dare soddisfazione al presidente, domani ancora di più perché averlo vicino in ritiro, averlo al campo è sempre meglio che averlo distante ma conoscendolo tra pochi giorni tornerà subito con noi. Volevo sapere Sandro come sta, ho visto che l'ha convocato, forse non è in condizione di giocare dall'inizio però comunque anche forse per un po' di personalità all'interno del gruppo è importante nello spogliatoio il suo contributo anche dalla panchina potrebbe essere importante per i compagni e poi volevo sapere un attimo se da un punto di vista tattico ha le idee chiare oppure come le altre volte insomma c'è qualche dubbio, qualche perplessità ancora legata all'utilizzo di qualche calciatore? No, qualche dubbio ce l'ho sempre, pochi però qualcosa ancora devo decidere. Sandro viene solo in panchina perché non è il caso di rischiarlo, non tanto perché la partita non sia decisiva ma tanto perché ha un problema e non può essere, non si è mai allenato e giocando rischierebbe un lungo stop e comunque chi gioca al posto suo come ho detto sempre ma poi dopo la verità riuscirà a fare lo stesso la sua parte. Considerate che Viola fino a qualche settimana fa voi stessi mi chiedevate come mai di questo accantonamento poi dopo si è fatto male Cataldi, ha giocato lui, ha giocato benissimo domani l'assenza di Viola pesa al pari di quella di Sandro quindi il problema è quando si viene chiamati, se ci si allena prima bene se si sta sempre collegati col cervello e poi dopo è normale farsi trovare pronti se invece si pensa più a lamentarsi, più a far andare la lingua che le gambe poi quando si viene chiamati si fanno brutte figure però questo penso che non sia un esempio per i nostri giocatori almeno in questo momento. Per quanto mi riguarda volevo sapere innanzitutto se Diabatè più o meno ha nelle gambe qualcosa in più di un tempo e se essendo che forse potrebbe essere una partita fisica e il Verona è una squadra che sui calci piazzati è abbastanza pericolosa visto che è di testa e ha segnato quanto la Juve quanto il Napoli e il Benevento insomma qualche problemino sul gioco aereo l'ha avuto se potrebbe essere anche un'idea quella di schierare Diabatè anche per alzare un po' di centimetri anche in fase difensiva e creare qualche fastidio in fase offensiva Sì, Diabatè sta meglio il fatto di utilizzare giocatori fisici anche per i calci piazzati è un'idea che mi è venuta anche a me vediamo se giocherà lui o no comunque è in uno stato fisico buono per poter partire poi se dura un tempo 60 minuti questo lo vedremo dal campo dipende anche tanto dalla partita dal tipo di partita che penso possa venire fuori perché è vero che il Verona è una squadra fisica ma per combattere la fisicità si può combattere con la stessa arma quindi l'arma della prestanza fisica oppure l'arma della tecnica di cercare di far andare più veloce la palla e sbagliare meno passaggi essere un pochino più qualitativi nel gioco Verona è una squadra che innanzitutto non dobbiamo pensare che sia perché abbiamo fatto prestazioni buone con Napoli, Roma e Inter il Verona sia una passeggiata il Verona ha il doppio dei punti nostri e quindi se li ha fatti probabilmente perché li ha meritati e quindi dobbiamo rispettarli ancora di più di quello che abbiamo rispettato l'Inter poi che sia una partita che noi vogliamo vincere che noi abbiamo l'obbligo dentro di noi di vincere abbiamo la voglia di vincere ma proprio assalendoli dal primo minuto questo è un altro discorso però poi è sempre il campo che dirà se ci siamo meritati la vittoria non è una passeggiata domani abbiamo bisogno del Benevento al 100% della gente che spinga al 100% perché ci possono essere ancora possibilità di riagganciarci non adesso, non possiamo vederla adesso ma dobbiamo vederla tra tre partite se riusciamo a fare punti in queste tre partite mancheranno nove e a nove partite dalla fine arrivare con meno 5, meno 6 allora lì inizia quello che abbiamo rincorso fino ad oggi e per arrivare a quella distanza bisogna fare una partita domani come fosse il Crotone, come fosse veramente l'ultima spiaggia Buonasera mister in effetti lo ha detto proprio lei adesso è una partita che ricorda un po' quella col Crotone nel senso che al di là delle trame, al di là del gioco che il Benevento dovrà comunque produrre servirà molto una prova caratteriale quella che ha un po' contraddistinto proprio la sfida col Crotone Sì, poi nel mio caso è sempre questo l'aspetto che voglio che sia basilare le mie squadre le voglio sempre con la cattiveria la personalità, il coraggio di osare l'umiltà di rispettare tutti quindi di prendere dal Verona al Napoli allo stesso modo proprio perché noi siamo gli ultimi della classe e non possiamo permetterci di pensare in maniera diversa poi dopo però il coraggio di fare la partita di attaccare di attaccare secondo le nostre caratteristiche e difendere secondo le nostre caratteristiche avremo due assenze in questo momento pesanti ma chi giocherà mi riferisco a Del Pinto, Memuschai o altri non avranno sicuramente può essere nessuno dei due altri giocatori avranno sicuramente gli stimoli per non far rimpiangere chi domani non ci sarà In effetti a centro campo l'ha detto lei i scalpi danno diversi calciatori chi può avvicinarsi per caratteristiche a Sandro e Viola che danno sempre un po' più di qualità al gioco forse Ecco, Memuschai può essere quello che ha più qualità di piede rispetto agli altri calciatori Ma può essere Cataldi da play ha già giocato quindi su quella posizione non abbiamo problemi e poi questo è uno dei dubbi che ho tra tra Iulicic, Del Pinto Memuschai sono tutti giocatori che hanno dato in momenti diversi garanzie e vediamo questo è quello che che penserò fino a quando non deciderò chi gioca Questa è anche un po' una settimana particolare sulla base di quello che è accaduto contro l'Inter un ottimo benevento errori arbitrali che hanno comunque macchiato la partita però due errori difensivi lei lo ha detto insomma ci lavoreremo magari cambierò qualcosa hai studiato qualcosa insomma a tal proposito perché sono stati un po' i limiti che hanno contraddistinto il benevento delle ultime partite sempre un bel gioco però quelle disattenzioni difensive legate magari a schemi particolari che hanno poi macchiato le partite No noi abbiamo perso a Bologna con due calci piazzati a Torino ogni calcio piazzato era un dramma a Roma abbiamo preso il gol del pareggio su calcio piazzato e a Milano due quindi lì quando la responsabilità è suddivisa in tanti giocatori non è più loro la colpa ma diventa mia non ho studiato niente ho cercato di lavorare e di cercare di porre qualche rimedio non so se non so se sarà abbastanza per evitare problemi so che un rimedio è alzare l'attenzione nelle situazioni dove si è un po' più deboli se si è un po' più deboli in qualche situazione quando si ripropone questa situazione se l'affronto con più attenzione alzando l'asticella può essere che ne esca meglio questo è sicuro Buonasera Sagnà partirà nuovamente dal primo minuto? Sì Sagnà giocherà a destra come le ultime partite cercando di di fare la stessa partita che ha fatto a Milano perché ha fatto per me benissimo così come hanno fatto gli altri ma Sagnà avevamo qualche dubbio nello staff sulla tenuta fisica invece ha confermato la teoria che i campioni quando poi si trovano a giocare le partite danno sempre quel qualcosina in più cercando anche di aumentare la tenuta fisica per far sì che che faccia qualche sovrapposizione in più durante la gara giocando con una punta esterna e lui terzino dovrà sicuramente aumentare un po' quella che è la spinta sta cominciando a diventare il benevento che voleva De Zerbi quando è arrivato in città io sabato scorso ero in tribuna è chiaro che complimenti non fanno punti però vedere giocare la squadra ultima in classifica con quella consapevolezza con quel modo di porsi anche davanti ad una squadra sicuramente qualitativamente più più forte è il benevento che voleva De Zerbi a che punto siamo in quella percentuale che lei aveva in testa quando è arrivato qui a Benevento no mi rende orgoglioso la mattina quando mi sveglio e devo allenare la squadra sono contento di quello che faccio e non mi è capitato sempre in questi cinque anni che alleno andare al campo con il gusto di allenare con la passione con la voglia di non veder l'ora di iniziare l'allenamento per divertirmi dispiace perché non riusciamo a raccogliere ancora quello che probabilmente ci meriteremo tutto qua perché poi si fa presto a cancellare le prestazioni o i giudizi positivi quando si guarda solo il risultato purtroppo però per tanti per la classifica soprattutto che è quella che conta buttarla dentro e non subire gol è quello che ti fa la differenza in questo dobbiamo migliorare tanto che percentuale non posso dire perché la riconosco la squadra ma abbiamo molto molto ancora margine di miglioramento è chiaro che tutto è compatibile è tutto dipende dalla situazione perché ho detto ripeto a voi quello che ho detto sabato dopo la partita mi piacerebbe ripartire con la stessa squadra in ritiro perché si avrebbe più tempo si avrebbe più libertà mentale per poter lavorare un po' più sul dettaglio e il dettaglio quando ti trovi in queste situazioni fai fatica a ricercarli tutti a lavorarli tutti i calci piazzati non sono un dettaglio però probabilmente avremmo potuto fare qualcosa di più nel martellare sui calci piazzati a sfavore buonasera mister volevo tornare per un momento sugli episodi arbitrali non solo quelli della settimana scorsa un po' in generale per capire perché ho l'impressione che la squadra in campo i giocatori tendano a non protestare molto e volevo sapere se è una direttiva imposta da lei oppure dipende più che altro da un senso di impotenza dei calciatori nei confronti di una classe arbitrale che oggettivamente sta sfatando favorendo questo bene allora su sta cosa devo entrare abbastanza forte perché se no si passa si passa per coglioni no perché chi non protesta passa per scemo allora io so protestare so farmi buttare pure fuori se devo protestare come voglio so che siccome noi non abbiamo tempo perché mancano poche partite alla fine dell'anno e vogliamo avere una possibilità di salvarci dobbiamo stare lucidi col cervello quindi protestare per farsi buttare fuori o per aumentare magari il fatto di la partita successiva di essere visti in malo modo non mi va i giocatori sanno che se devono protestare protestano con educazione perché vogliamo cercare di lottare per salvarci sul campo quindi se tu protesti e ti buttano fuori due giocatori ti complica la partita successiva ma non è che non si protesta perché non vediamo quello che abbiamo subito o non vediamo quello che succede in campo quando io mi riferisco al rispetto mi riferisco all'approccio che il quarto uomo ha nei miei confronti quando parlo alcuni neanche ti considerano nella velocità di tirar fuori il cartellino a un giocatore del benevento rispetto a un giocatore che ha una maglia diversa mi accorgo di tutto poi si decide visto che oggi in testa abbiamo altro tutte le buche non possiamo coprirle e qualcuna dobbiamo lasciarla scoperta e noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare sul campo perché se no se si inizia a protestare si entra in un uno non cambia niente perché la decisione non è più ritrattabile e secondo si possono perdere giocatori si possono perdere energie si perde la direzione vera quella più importante ma vi assicuro che nessuno dorme e nessuno è contento degli episodi che abbiamo subito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti